Allora, quanto manca al 31 di luglio? Quanto manca? Manca qualche? Un'ora e tre quarti Ma se festeggiamo prima a Porta Sfiga No! Non Porta Sfiga Quindi quello che dice lei non è vero Allora, facciamo così Al nostro tre, al nostro, non al mio Al nostro tre, devi soffiare, devi spegnere la candelina Sai dove funziona? Devi spegnere la candelina Ok La, su 43 No, spazio Zoom al 43, zoomalo Perché i miei li zooma lei Zoomalo Zoom bene il 43 Zoom al 43 prima Una volta che l'hai zoomato Diciamo, oh Daniela come sei vecchietta Però sei sempre tra di noi E già questo è importante Ok Allora, al nostro tre Al nostro tre mi metto qua Anzi, metto qua Metto qua Al nostro tre Allora, siamo pronti? Uno Due, due, tre E allora Dani, un pensierino Vi vogliono tutti bene Eh che cagata Un pensierino più simbato Un pensierino più simbato Oh, ma se siamo a posto Siamo, siamo rovinati Eccolo qua Eccolo, eccolo Rifallo, rifallo Tutti voi Alla prossima Siamo rinforzata 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.